La Lega è stata indotta dall'alleanza con noi ad assumere atteggiamenti producenti per l'Italia, utili, ma la sua natura è quella di questi giorni. Chi ha tanto insistito perché si rompesse o si tentasse di rompere il legame con il centrodestra, oggi non può lamentarsi dell'atteggiamento della Lega. Io penso però che ci saranno in futuro momenti di riavvicinamento. Grazie. 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 Grazie.